papà ma quali sono le battute che dobbiamo dire oggi le battute che dovete dire oggi si appena finiti di giocare questa roba cosa le dico io sto ordinando il sushi ah il sushi sto ordinando attraverso un'applicazione è giustamente l'applicazione per ordinare il sushi io invece sto prenotando un film per stasera comunque lo sto giocando scusa perché chiaramente grazie al lockdown ho imparato a ordinare i film sul computer a vederli dopo io posso anche prenotare la visita medica io invece posso anche prenotare la spesa la spesa il fatto di digitalizzare la società è strano nel senso per me è strano io dovrò impegnarmi a usare i mezzi ma per loro è già il presente sono in futuro però sono già al presente connessi con questi mezzi cioè a guardare con questa confidenza c'è proprio da sentirsi vecchi papà tu sei vecchio se ti guarda allo specchio